Ciao, sono Katia De Monte, speaker e giornalista, e questo è Ricomincio da 3, il nuovo podcast di Macrolibrarsi. Ti leggerò ogni volta tre pagine tratte da uno dei nostri libri più belli e che hanno cambiato la vita a migliaia di persone, per ispirarti a diventare la versione migliore di te. Il libro che abbiamo scelto oggi per te è di Elmar e Michaela Zadra e si intitola Tantra e meditazione. Sai che il tantra è un percorso gioioso con e senza sesso? La meditazione tantrica è un insieme di tecniche meditative che combinano movimento, respiro, meditazione e suono per migliorare il flusso di energia che attraversa il nostro corpo e la meditazione tantrica si distingue dalla maggior parte delle tecniche praticate in occidente, dove gli obiettivi principali sono la tranquillità e il rilassamento, in quanto sfrutta diversi tipi di energia per arrivare ad una profonda conoscenza di noi stessi. Il corpo a questo punto diventa fluido, senza resistenze e contrazioni, in grado di mantenere e assaporare l'espansione della coscienza. L'energia sessuale ti chiede di essere presente nel corpo e con fiducia, in questo sarai in grado di varcare i confini del piacere per incontrare l'estasi dei sensi. In questo manuale gli autori ci guidano in un percorso in cui attraverso la meditazione si imparano a governare le emozioni, a espandere la coscienza, a sperimentare le tecniche dell'estasi sessuale che diviene così uno strumento privilegiato per arricchire la vita. E sono diverse le meditazioni suggerite, soprattutto adatte a qualsiasi circostanza quotidiana, in pubblico, sul lavoro, in gruppo e con il partner. Allora ti leggo qualche pagina estratta dal libro. Buon ascolto! La meditazione non serve per creare un'immagine più spirituale ed evoluta di se stessi, ma proprio per eliminarla. Perciò il vero traguardo non sta tanto nella profondità delle meditazioni alle quali si può arrivare nel giro di qualche settimana con una certa concentrazione o una pratica assidua, ma nella capacità di applicare la pienezza spirituale e corporea acquisita al qui e ora della vita ordinaria. Se vivi esperienze di picco nelle quali sei al settimo cello, ma mentre ti allacci le scarpe sei assente a te stesso, stai coltivando un'idea dell'ego. Un maestro di Vipassana, Jack Kornfield, dice che il vero lavoro inizia quando la meditazione è finita e che per integrare un ritiro intenso di meditazione nella propria vita ci vuole il triplo della durata del ritiro stesso, quello che lui chiama il lavaggio della biancheria sporca. La vera arte del tantra non consiste nell'arrivare all'estasi o nel raggiungere vette spirituali sempre più alte, bensì nel rendere la propria vita più interessante. La meditazione è semplice, chiudi gli occhi e accarezzi il tuo respiro con la coscienza. Quando arrivi allo stato in cui tutto è uno, il percorso è ancora più semplice. La sfida è di non attaccarsi allo stato di unità che ci piace così tanto per portare l'esperienza del tutto e uno anche nella vita ordinaria dove le cose non sono più semplici ma complesse determinate dalle relazioni con altre persone. Qui ogni situazione richiede una soluzione diversa, non esiste più un'unica soluzione. Se riduci l'arcobaleno della vita a un solo colore per concentrarti sulla coscienza meditativa aggiungi soltanto sofferenza e complichi ulteriormente le cose perché usi gli strumenti sbagliati. La meditazione ne richiede uno, la psicologia un altro, l'economia un altro ancora e l'informatica idem. Se durante la meditazione seduta andiamo al di là dei fenomeni, nella vita si tratta di essere con i fenomeni. Impara ad accompagnare i tuoi problemi, a tenerli vicino a te come fossero un cane fedele che ti segue ovunque. Se una domanda, una scelta difficile, un conflitto, un qualsiasi dilemma ti insegue per molto tempo significa che è importante per te. Non cacciarlo via e non tenerlo troppo stretto, permettigli semplicemente di seguirti, di accompagnarti in ogni gesto, in ogni contatto con le persone, in ogni forchettata di pasta che metti in bocca nel momento in cui apri l'ombrello o chiudi la porta della macchina, in ogni respiro e in ogni passo. È giunto il momento di imparare a mantenere la consapevolezza verso il nostro corpo e la nostra mente anche quando siamo al di fuori della protezione delle quattro mura domestiche. Il gradino successivo è essere coscienti e sentire noi stessi anche mentre qualcuno ci guarda o potrebbe osservarci. Camminare. Tutti camminiamo e lo facciamo talmente spesso in casa, per strada, per andare al lavoro, fare la spesa che è diventato uno dei movimenti più automatici e inconsapevoli in assoluto. Focalizzati sulla pianta dei piedi e immagina che i passi provengano dal basso, dalle caviglie. Il piede a questo punto si rilasserà e ti darà la sensazione di scendere con consapevolezza verso il basso. La pancia si distende e il bacino si libera, poi continuando a essere consapevole dei movimenti all'interno del tuo piede fino a sentire le dita che si piegano ogni passo porta simultaneamente la coscienza alla testa che oscilla leggermente coi passi. Immagina di essere appeso per la testa, un filo invisibile che penzola dall'alto e di essere come un tubo, aperto in basso e in alto. Questo forse ti darà una sensazione di allungamento. I piedi si aprono al contatto con la terra, la testa si apre verso il cielo, mentre al centro si crea più spazio nel tuo petto, il cuore si espande. Se ti mantieni flessibile con la mascella rilassata e la schiena morbida, tutto il corpo si muoverà durante la camminata, non soltanto i piedi e le gambe. Sentirai come l'onda creata dai passi in basso si propaga attraverso il bacino e la colonna vertebrale sciogliendo la corazza muscolare, come le anche, la schiena, le spalle, le braccia e la nuca seguono questo continuo movimento delle gambe che si propaga in tutto il corpo. Facendolo con reggerezza ti renderai conto che camminare oltre a essere funzionale per andare da un punto all'altro può essere anche un momento veramente gioioso. Meditare in autostrada. Viaggiando spesso passo molto tempo in macchina, allora mi sono chiesto perché non introdurre di micro meditazioni durante la guida. Il punto di partenza è la presa di consapevolezza di un movimento frequente, per esempio cambiare marcia. Quando passo dalla prima alla seconda sento la pressione del cambio sulle dita leggermente tese verso sinistra. passando alla terza il maggior contatto nel palmo della mano. Cambiando in quarta le dita sono rilassate, il gomito arretla fluidamente, mentre la quinta invita proprio a combinare il movimento sinuoso con l'espirazione. E se provassi con i micro movimenti? È ovvio che guidando non posso fare grandi mosse. Una o entrambe le mani sono sul volante, un piede sull'acceleratore sempre pronto a passare sul freno, gli occhi sulla strada per osservare il traffico, uno sguardo ogni tanto nello specchietto retrovisore, la mente vigile, per interpretare velocemente i segnali che arrivano dai sensi. Inizio a muovere la testa, pochi millimetri verso la spalla destra e poi verso quella sinistra, piacevolmente dondolo la testa per alcuni chilometri e rimango sorpreso. Grazie a questi movimenti davvero minimi, la testa e la nuca, che sono sempre molto tese durante la guida, ora si sono rilassate. Mi viene qualche dubbio, ho forse perso di vista la strada? Se sposto la mia attenzione all'interno sarà minore all'esterno. Dove andrò a finire? Non posso mica permettermi di essere sciolto in macchina se poi metto in pericolo la mia vita e quella degli altri? Tra questi pensieri arrivo a Frusinone e vedo che ho già fatto 360 chilometri. A questo punto decido di fare il test, il tratto da qui a Napoli mi sembra adatto. Continuo a seguire i micromovimenti dolci della testa e permetto anche alle spalle e alla mano libera di unirsi a essi in una specie di micro danza spontanea. I movimenti sono pochi, piccoli e lenti, così come li conosco dalla meditazione tantrica. Mentre percepisco una spalla che si alza mi tocco il viso con un dito, è un movimento assolutamente spontaneo che mi viene da dentro, è un movimento più volto ad accarezzarmi. Continuo con le delicate carezze sulla guancia, sul collo, piacevoli, non mi distrago, anzi non perdo mai l'attenzione della strada. Addirittura la vista è migliorata, più acuta, coglie prima i segnali delle macchine davanti che frenano o cambiano corsia. È solo un'idea sbagliata pensare che il dentro e il fuori di sé come opposti che si escludono a vicenda. L'attenzione è duplice e può essere mantenuta sia verso l'esterno sia verso l'interno, contemporaneamente. E queste sono solo alcune delle meditazioni contenute in questo libro Tantra e Meditazione di Elmar e Micaela Zadra che oggi abbiamo deciso di leggere insieme e che ci fa comunque comprendere che proprio in questa disciplina si può trovare un percorso davvero molto valido per rafforzare il nostro senso di sé, per approfondire proprio l'unione tra il maschile e il femminile, espandere la nostra sessualità, seguire il nostro cuore attraverso veramente un'espressione del tutto autentica. Ma voglio subito, come sempre, andare a leggere i commenti di chi il libro lo ha già letto. Monica scrive Cornelia invece scrive Gli autori sono molto bravi nel condurre per mano il lettore sulla via di una spiritualità laica, dove il requisito fondamentale è imparare a stare in pace con se stessi per vivere a pieno la relazione con gli altri. Riprendo spesso la lettura di questo libro quando mi sento fragile, dubbiosa o poco serena. E nel salutarti voglio ringraziarti per avermi ascoltata in questo podcast di Macro Ribrarsi, il negozio etico online più grande d'Italia per il benessere green, la salute della terra e il benessere delle persone, alimentazione, libreria, erboristeria, eco-bioshop e tanto altro. Scegli anche tu l'alternativa naturale. Infine, per seguire il nostro podcast Ricomincio da tre e scoprire gli altri libri del cambiamento, il link è macrogo.to slash podcast e noi ci risentiamo alla prossima puntata per scegliere la versione migliore di te.